Ciao a tutti, sono Gabriele, arrivo da Biella, ho 68 anni e un bel giorno mi sono trovato che avevo dei grossi problemi ai denti, allora ho deciso di fare qualcosa perché così non potevo andare avanti. Ho parlato con degli amici e mi hanno consigliato di venire qui, ero un po' di fidente perché sai dall'Italia, la Moldavia, allora mi sono un po' informato e poi ho trovato che si poteva provare, sono venuto qui e sono contento di essere venuto qui perché ho trovato parecchie gente simpatica, ma soprattutto della gente che sa fare il suo lavoro e hanno risolto il mio problema perché adesso sono veramente contento, è inutile dire che sono venuto con mia moglie, che non mi lascia mai perché evidentemente mi considera prezioso, comunque siamo stati bene, l'unica cosa che mi dispiace è che c'era un po' il tempo brutto, ma per il resto mi sono trovato molto bene, quindi secondo me se avete dei problemi di denti rivolgetevi tranquillamente con fiducia a questo studio perché sono bravissime persone, mi piacciono, sono simpatiche e sono anche brave a lavorare.